Gentili telespettatori, buona giornata. Perché il meeting di Rimini ha ricoperto di fischi Enrico Letta? Si parla di riforme sovietiche. Vediamo di che cosa si tratta. Dicono che il programma del PD per la scuola è di una povertà di contenuti, di idee tremenda. Condito da misure autoritarie di stampo sovietico. In Italia un bambino su dieci non frequenta la scuola, dai tre ai cinque anni. E questo creerebbe le prime disuguaglianze. Risolvere il problema in questa maniera. Intendiamo cancellare questa discriminazione rendendo obbligatoria la scuola dell'infanzia. Vi devo dire che in diversi paesi del mondo è obbligatorio l'asilo per i bambini. Obbligatorio. E se non ci vai ti vengono a prendere a casa. Ecco. Peccato che una discriminazione esista proprio quando un comportamento è costretto, non quando è libero. Intanto una quota di chi non frequenta l'asilo è frutto di una libera scelta. C'è poi da chiedersi come si intende a risolvere questa obbligatorietà. Senza parità economica tra scuole statali e non statali? Ma dove vivono, visto che il 48% delle scuole dell'infanzia è non statale? Quindi vuol dire che ci sono il 50% statali e il 50% private. Il fatto più che dell'obbligatorietà, che secondo me è giusta, il fatto è che non ci sono le scuole. No, pertanto dire che è obbligatorio mandare all'asilo i bambini e poi dove, che non ci sono le scuole, si capisce che sono quelle cose buttate lì. Un po' come il milione di alberi di Borlusconi che ha buttato lì a caso, senza sapere neanche di quello che stesse parlando. Uguale è il programma del PD. Il PD sa che non andrà a governare il paese, allora non è che sta troppo a pensare, ci sono, non ci sono gli asili. Obbligo per tutti per l'asilo, dice, ma le scuole? Vabbè, ma tanto non andiamo a governare, sono cose che si dicono così in campagna elettorale. E poi la logica che soggiaccia alla proposta. Siccome per una parte dei non frequentanti le pubbliche amministrazioni non adempiono a un loro obbligo di garantire il posto a tutti, invece di costringerla ad assicurare il servizio con soldi statali o con la parità, si rende obbligatoria la frequenza. Anche di chi per sua libertà e responsabilità educativa non la voglia. Se questa proposta tocca la libertà di scelta educativa delle famiglie, si scontra con la Costituzione. Ve ne sono altre che appaiono ugualmente inquietanti perché rischiano di distruggere l'intero sistema della formazione tecnico-professionale. Ma il fulcro è che non ci sono gli asili per tutti. Questo è il problema, più che è giusto o no che vadano i bambini all'asilo, obbligatorio o no. E poi c'è il punto della scuola dell'obbligo fino alla maturità. Diciamo che c'è questo problema che forse nessuno ha voluto vedere. Se obblighiamo le persone ad arrivare fino alla maturità, già oggi l'obbligo è fino alla scuola media. Cosa succede? Che poi le scuole li promuovono per mandarli fuori. Se no cosa fai? Tieni un ragazzo o una ragazza fino a 50 anni bocciato a scuola perché non studia, non si presenta? Perché con la scuola dell'obbligo il ripetente diventa cronico e allora a un certo punto è mandarli via, promuoverli, farli passare. Allora fino ad oggi la maturità, o almeno le scuole superiori, sono state delle scuole dove devi studiare. Nella maggior parte dei casi per essere promosso devi studiare. Rendendo la scuola dell'obbligo fino alle scuole superiori comprese, vuol dire che poi diventa come per le medie, promuovili e mandali fuori. Quindi poi il valore che ha il diploma si abbassa perché diventando una scuola dell'obbligo c'è l'obbligo che tu li fai uscire. Che se scorre a scuola, se scorre, se scorre. Ecco. Pertanto anche qui con gli asili c'è il problema che non ci sono gli asili e con la scuola dell'obbligo fino alla maturità c'è il problema che poi, per il problema che si deve scorrere, te li fanno uscire anche senza che hanno studiato mai nulla. No? Capite? Quindi poi c'è il problema di chi esce perché ha studiato, ha la maturità perché ha studiato e chi ha la maturità perché era obbligatoria, prima o poi dovevano farlo passare. No? Avete capito? Pertanto la proposta di Letta sia sugli asili che sulle scuole un po' lascia il tempo che trova. Prima fate gli asili e poi vediamo l'obbligo. E sull'obbligo fino alla maturità, secondo me, secondo me è sbagliato. Se uno vuole rimanere con la terza media, che ci rimanga. Naturalmente le possibilità di lavoro si riducono al lumicino e la retribuzione si riduce al lumicino. A meno che voi non apriate un'azienda vostra. Il titolo di studio non è fondamentale per riuscire nella vita, però ti dà delle grandi probabilità che senza non hai. Ecco, se tu oggi vai a cercare lavoro con la terza media o con le scuole elementari, le possibilità si restringono veramente tantissimo. Non puoi andare a concorrere per dei ruoli direttivi, poi non puoi concorrere per fare il quadro dirigente, l'impiegato direttivo, il responsabile di questo, di quello. Se non hai di base, se non hai almeno la maturità, ma sarebbe consigliabile avere anche una laurea breve, le possibilità di lavoro si restringono. Già visto che il lavoro in Italia comincia a diventare sfruttamento del lavoro, con retribuzioni al di sotto dei mille euro, capite che investire sullo studio serve. serve perché quello che succede in Italia sotto l'aspetto del lavoro e delle retribuzioni è penoso, abbastanza penoso. Pertanto l'obbligo fino alla maturità andrebbe ad abbassare il livello degli studi, perché mandalo fuori che non studia, che ha già 30 anni, mandalo fuori. Capite? Ecco, quindi la scuola dell'obbligo fino alla maturità, non mi sembra. Così viene fischiato, il povero Letta viene fischiato al meeting. Naturalmente comunione e liberazione, se non sbaglio, sono un po' tendenti verso destra, centro-destra. Quindi già c'è una preposizione, non una preposizione in grammatica, ma una preposizione sulla sinistra. In più la campagna elettorale del Partito Democratico viene improntata all'impedire all'avversario di governare senza programmi. E questi sono poi i risultati, i fischi. Arrivederci a tutti.